Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Archiparla e siamo qui con un video diciamo a seconda parte rispetto alle patch notes di cui ho già fatto un video riguardo analizzando tutto quanto il blog che vi lascio qui sotto in descrizione. Le appunto accennavo al fatto che la rip al momento su di machine è potenziabile col paka punch fino al tira 3 e fa sicuramente una certa differenza, o dovrei dire dopo una partita intera di tester a un 100 in meno di 2 ore, un'ottima, ottima differenza. Teoricamente adesso è infatti possibile giocare di machine perfettamente in final round anche abbastanza alti senza mai cercare una ray gun, bensì prendendo la rip semplicemente dalla cassa, dai trial, dalla quest, qualunque cosa, otteniamola e possiamo fare tutti i run che vogliamo, sicuramente in singolo con qualche difficoltà ma nulla di assurdo, in co-op sono sicuro che sia veramente facilissimo. Quindi io purtroppo non utilizzo i valori numerici per quanto riguarda i danni ma ho comunque qualche dato da potervi fornire per quanto riguarda la differenza di danno rispetto a prima e quello che si può fare adesso considerando che la vita degli zombie è 60.000 come il limite massimo e che darà un 55 in poi, oltre che la vita al massimo, anche la velocità di spawn e di movimento è al massimo. Fino a poco tempo fa infatti anche con la versione 2.0 della strategia Attico che vi lascio qui sotto in descrizione, che si utilizza la ray gun e l'MP5 con scoppio di rompente, consigliavo la rip fino al round 30 perché funziona molto molto bene e può essere ottenuta praticamente fin da subito col primissimo Megaton. Adesso invece potenziandola al massimo a livello 3 del pack a punch possiamo andare tranquillamente fino al round 41 shottando qualsiasi cosa. Andiamo avanti così anche fino al round 46 con qualche problemino ma comunque la rip funziona ancora molto molto bene specialmente per il fatto che adesso ha 90 colpi invece che 60 e ogni zombie risucchiato ce li dà 4 colpi invece che 3. Capita fin da subito che possiamo spammare molti più colpi, abbiamo molte più munizioni e fanno anche più danno. Arrivati al round 46 la rip non sta più shottando perché la vita è oltre i 30.000 di danno che è il danno che appunto fa adesso il colpo sparato normale della rip. Da dopo ho testato soltanto la versione base onda d'urto e non tutte le altre varianti perché nella strategia attico sicuramente questa è la versione migliore. Per altre strategie sono sicuro che fuoco, elettrico, ghiaccio o quello 9-5 possono comunque fare la differenza. Il risucchio invece fa 6.400-6.500 circa di danno e ripeto dopo il round 46 non shotta più come prima ma funziona ancora molto molto bene. I primi problemi ovviamente si raggiungono dopo il round 55 con massima velocità di spawn e anche resistenza degli zombie e dei megaton. Con l'anello di fuoco tutto va ancora in maniera veramente splendida fino a qualunque round perché shottiamo qualunque cosa senza alcun problema, anche i megaton li buttiamo giù molto ma molto in fretta. Il problema è utilizzare la rip di base per cui servono due colpi sparati o con il risucchio molto più tempo rispetto a prima per quanto riguarda uccidere gli zombie. Sicuramente molto meglio rispetto alla versione base non potenziata ma comunque non si può stare tranquilli al 100% anche perché gli zombie sono molto molto veloci e fanno davvero tanto danno. La questione molto stupidamente è che qua nell'attico quantomeno in singolo ripeto che secondo me con due rip in co-op per 2, 3 e 4 player sia veramente fantastico, una cosa facilissima. Per la singolo invece basta stare qui molto tranquilli sfruttando scopi di rompente sull'MP5 o qualunque altra arma come nella vecchia strategia con la Raygun e semplicemente sparare due colpi di rip per uccidere tutti quanti gli zombie che vogliamo. La questione è che adesso abbiamo 90 colpi quindi possiamo spararne veramente tanti prima di finire le munizioni e in tutto questo tempo ci saremo sicuramente caricati un altro anello di fuoco con cui assorbire decine se non centinaia di zombie, rifarsi i colpi e andare avanti molto ma molto tranquillamente. In conclusione per riassumere tutto in veramente poche parole questa rip potenziata è veramente fantastica e possiamo letteralmente confrontarla a una Raygun se non per il fatto che questa non va cercata nella cassa in maniera completamente casuale ma con sfide o quest specialmente in singolo possiamo tenerla veramente molto molto in fretta e usarla pesantemente. Ho quindi come accenato all'inizio video fatto un round 100 questa mattina soltanto in due ore scarse e potevo andare anche molto ma molto più in fretta con la stra tattico. Inizialmente pensavo che superato il round magari 50 o 55 avessi avuto molti più problemi, inizialmente pensavo di averli. Una volta invece ottimizzato tutto quanto per due colpi di rip a nano di fuoco e ogni tanto qualche colpo di macchina da guerra, scoppio di rompente, molotov per i megaton o cose simili che comunque si usano di base anche con la Raygun, tutto quanto è andato in maniera molto ma molto liscia. Per cui questa rip sicuramente approvata. Quindi ragazzi questi sono tutti quanti i cambiamenti per la rip su The Machine, vi ricordo che si trova anche su Epidemia e anche lì ovviamente può essere potenziata ed è un ottimo ottimo sostituto come Wonder Weapon. Inoltre come già accennato nel video precedente anche la Ray-K è stata teoricamente buffata del 100% per cui il colpo esplosivo adesso toglie 60.000 invece che 30.000 e può di nuovo shottare all'infinito. Molto presto farò un altro test e un altro video a riguardo. Fatemi sapere un pochino se proverete questa rip o continuerete ad andare pesantemente di Raygun e fate delle belle partite su The Machine, anche se vi ricordo che sta per uscire Forsaken, quindi la concentrazione è sulla nuova mappa. Vi riuscirò in seconda cosa e qui, spero come sempre che vi sia piaciuto e vi sia stato utile, tutte le cose interessanti che sia per questo video o il blog sono qui sotto in descrizione, trovate anche tutti quanti i link per i miei social tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord. Ci vediamo come sempre al prossimo video, un abbraccio, Ava!